Una delle cose che mi appaiono molto banali quando leggo in Facebook, a mio avviso, a mio parere, è quando scrivono ma la gente, la gente non capisce, la gente non sa, la gente, la gente chi, esistono le persone e ogni persona ha una propria storia, c'è chi capisce, chi non capisce e poi in ogni caso ognuno dalla propria prospettiva si sente nel giusto e quindi anche dall'altra parte dicono in ogni caso ma la gente e allora non si finisce più. Grazie per la visione!